Mercoledì 26 dicembre, presso la chiesa di San Pietro e Paola ad Agropoli, si è tenuto l'evento Infanzia Salvatoris, il presepe prima di Francesco. Un evento nel corso del quale si è discusso sul percorso storico del presepe, basandosi su fonte scritte ed icone sacri raffiguranti appunto il presepe. Saluti istituzionali inizia evento dell'assessore Franco Crispino. Moderatore dell'evento Vito Rizzo. Sono intervenuti la professoressa e critico d'arte Antonella Nigro, il parrogo di Agropoli Carlo Pisani. L'evento è stato arricchito dall'ascolto di brani sacri eseguiti dal vivo dall'orchestra Utopia Ensemble. È stato un tema scelto da Don Carlo Pisani sul quale appunto abbiamo studiato ed è come sempre un percorso teologico ed artistico. Sulle fonti per quanto riguarda la parte dedicata appunto a Don Carlo Pisani, mentre io mi sono occupata dell'iconografia, quindi l'iconografia della natività dalle origini fino al 1223. Infatti siamo partiti con le catacombe di Priscilla che possono essere considerate in quella prima natività come prima attestazione del presepe, quindi dove non ci sono tutti gli elementi che noi conosciamo, molto più sintetica e molto più incisiva e che quindi ha delle fonti diverse rispetto a quelle che noi conosciamo nella nostra contemporaneità. Di per sé la forma artistica parla di per sé comunicativa, di per sé è capace di mediare con grande facilità un messaggio. Ancora di più quando poi questo messaggio è stato capace a sua volta di produrre arte. Il cristianesimo parla attraverso l'arte e dunque credo sia indispensabile riuscire a comprendere il linguaggio artistico che mutua il messaggio cristiano. È una forma di catechesi nata così in fondo anche le grandi cattedrali, i grandi cicli pittorici sono nati per parlare al popolo della bellezza del Vangelo. Siamo un gruppo di ragazzi che studiamo al Conservatorio di Salerno e Don Carlo ci ha chiamato questa sera per diciamo celebrare il nostro inizio del nostro percorso musicale. Questo di questa sera era abbastanza complicato perché era musica che andava dal Cinquecento all'Ottocento al Novecento. Quindi fare un giro musicale, un tour nel tempo è stato bello per noi musicisti, per noi ragazzi che comunque studiamo musica. È stato un po' difficile affrontare questo ma spero che ci siamo riusciti al meglio.